Aaaaaaah! Oddio! Oddio! Luca, ma ti avevo detto di non intrufolarti nei condotti della razione delle persone, ma... Ma scusa, ma io non ti assicuro, l'ho fatta l'altra volta! Lo sai che tutti dicono che la vecchia macelleria è maledetta, lo sai benissimo! Ma sì, ma cosa vuoi che sia? Un porco o una porca incredibile gigantesca! Sì, sì, va bene, dicono tutti così. A me sembra la casa di una nonnetta questa, guarda qua. Oh mio Dio, ma anche qui, cos'è questa cosa? Oh, fai attenzione, Luca! E' fuoto, siamo a casa da soli! Tranquillo, sai già perché siamo qua, quindi non farti problemi, ci siamo intrufatti per un motivo. Sì, per rubare come al solito, perché è l'unica cosa a cui tu pensi... Aaaaaaah! Oddio! Corri, corri! No, no, ma è lei! È la... Aaaaaaah! Oddio! Aaaaaaah! Corri! Anzi, faccia una bella cosa, tu corri, io corro all'altra parte! Trovo un posto in cui nasconderti! Un armadio, un armadio, un armadio, un armadio! Cos'è questa? Una cellula frigorifera? O no, o no? L'ho seminata, forse? Ti prego, vieni da me! Ok, ah, ah, l'ho vista passare! Non mi interessa le copotate! Aaaaaah! Luca! Ok, ok, è andata! Eh, un attimo, sono un pochino in preda al panico, sei mezzi prosciutti alle... Cos'è? Corri, arrivo subito! Eppa, perché lei fa? Dove sei? Dove sei? Il cordaglio vicino a dove siamo entrati? Ok, ok, sto provando a arrivare! Ah, non mi ha visto! Porca miseria, sto provando a raggiungerti, Luca, un attimo! Arrivo che succede, che succede? Uh, cosa c'è scritto qua? Luca! Ah, ah, non mi pare molto bella come stanza, Luca, pensi che sia una buona idea entrare qui dentro? Non mi pare molto bella, no! Io non lo so, io non lo so se questa è la vera feppa, Luca, mi sembra un po' più pigli, questa! Questa non è la porca che conosciamo tutti quanti, eh! E' il letto di George, c'è un cuore spezzato sopra il suo letto, Espy! L'ho capito, Luca! Sì, però adesso stiamo qua a fare la visita turistica, ma dobbiamo intanto nasconderci! E la porta lì è aperta e potrebbe arrivare da un momento all'altro, e poi dobbiamo capire come uscirci da sto posto! Di rubare qua non se ne pensa! C'è una salsiccia! C'è una salsiccia! C'è un joystick dell'Arcade! Ma che che me ne frega, c'è una salsiccia! Ma che schifo! Ma scusa, una vecchia macelleria abbandonata, dove ci sono i porci che ne ti seguono, pensa a mangiare salsicce! Ah! Dici che è George! Ma no, ma è impossibile! Eh, ma sì che è George! Ma non lo so quale parte di George! Ma questo è George, credo, ci sono i salamini! Vabbè, Luca, cerchiamo di concentrarci su come scappare da questo postaccio! Tu vedo come pensi! Guarda! Che cosa? Ma no, ma questa sarà la sabbietta in cui George, non lo so, fai bisogno di George! Che ne so io! Non importa! Non distrarmi, Luca! Oh! Sta arrivando! Ma dove vieni ad ascolti? Come sta arrivando? Dove ci nascondiamo? Qui dietro? Ah sì, sicuro che... Sì, sicuro che stia arrivando? Sto bruciando! Non è che sto facendo rumore! Eh, fuoco che... Andata? Oh no! Si ha visto! Corri, Luca! No, disgraziata! Io mi sa che me ne vado! Che tempismo! Corri! Intrappolato! C'è scritto che vuole bene a George però qui! Oh, oh! Corri! Ti conviene? Ma fammi provare una cosa più che altro perché ho trovato il joystick dell'Arcade! Oh sì! Ah! Non è che funziona così? Vediamo se... Oh no! Oh no! Che succede? Che succede? Non giocare! Ho fatto qualcosa, Luca! Ho attivato l'Arcade! Dove si è finito? Ma che arcade? Che stai facendo? Oh, Luca! Guarda cosa ho visto! Viene qui! Viene la sabbietta di George! Viene la sabbietta! No! Ah! Ma la smetti di giocare! Ho il diario di George! Vieni qua con cosa a farti leggere! Ci sei Luca! Dove ti sei nascosto? Ma porca miseria! Ma sembra a cincischiare! Oh! 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 Per favore! Per favore! Lasciami in pace! Oh no! Oh no! Mi stai seguendo Luca! Un armadio c'è da qualche parte? Eccoti! Fermo! Fermo! Non ti sta più seguendo! Scraziato! Ho attento alle spalle! Vabbè adesso sei morto! Ok! Ok! Forse è meglio nascondersi a qualche parte! Ho trovato un bel nascondiglio qui a quanto pare! Perfetto! Dai Luca! Semina la porca miseria! Dobbiamo capire come scappare da questo postaccio! Aspetta Luca! Vieni qua! Vieni una porta! Vieni una porta! Vieni qui! Vieni qui! Oddio santo! Non lo so se ti conviene entrare! C'è una porta! L'unica porta! Non può puremente passare verso le porte così strette e basse! Entra qui! Anche se non sono così sicuro! Che sia una buona idea! Ci sei? L'asseminata! Eh! L'asseminata! L'asseminata! Era anche ora! Beccati sta nuova! Leggi sto diario! Il cartiere di George! Non... Coptare! Eh vabbè ma era pure dislessico George! La foto sul letto! Ma Luca ma non sai veramente leggere! Ma 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 o sei dislessico pure te! Dai su! C'è scritto che ha messo tutti i giocattoli nella cassaforte dietro la foto sul letto! Ti ricordi? Oh dai! Ma dobbiamo tornare la stanza di George! Aspetta però che c'è qualcosa altro interessante qua! C'è pure il piano di Peppa! La faccio una bella cosa! Tu te lo leggi? Mentre andiamo! Abbiamo tempo da perdere un posto stare qua sotto! Ma non lo so! Ci sono delle tombe delle bellissime tallate! Questo cosa mi deve rappresentare? Cosa c'è così? Sotto Peppa sulla lapide! Oh no! Ma quindi questa è la stanza di Peppa che è stata leggermente trasformata in una stanza di carne! È in pazzi da! È in pazzi da! È in pazzi da dove dobbiamo tornare la giorgia... Fai attenzione! Spiccati! Cazzo! 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 Non riesco a scapparne Dai su basta che corri salti non è così difficile Ok mi sa che adesso se la prenderà con me immagino Barrazione pensavo di essere libero per un attimo Ci sono ci sono si è intrappolare o non si è intrappolata dunque dobbiamo capire qual è la combinazione C'ho il chiaro di peppa sicuramente scritto lì dentro di quali 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 che cos'è questo posto Troppo alta per passare attento alle spalle luca C'è un glitch alle tue spalle qualcosa di inquietantissimo allora fammi leggere caro a diario ho iniziato prima con mammina Io papino e giorgio abbiamo usato la sua testa con una bella zuppa No da luca non leggere di queste cose che già è una brutta io sto cercando di esplorare un po Devono stare lontani dalle loro tombe perché altrimenti torneranno per vendicarsi La vista passare dobbiamo dobbiamo trovarli cosa trova cosa non trovare tutta la famiglia e ma così la sconfiggiamo Ho trovato una pala da giardinaggio qui però mamma cosa cugini Cosa cugini cugini cucini cugini dai su va beh comunque becca ti sta sta cosa e zappa la vigna luca non lo so da dirti Ok cerchiamo qui in alto vediamo se c'è qualcosa C'è guarda c'è una ricetta ricetta sorpresa di mamma pig sale maiale fresco Sangue grano semi di zucca luca mi sa che vedo dobbiamo cucinare qualcosa forse Stai lontano quel coltello il massimo si per difenderti contro pigi ma non contro di me Sì Dimmi cosa c'è Scoperto qualcosa Ma qui non c'era un qualcosa di segreto sotto sotto questo giardinetto ma chi sono quei tre non lo so sono i cugini cugini che cucina non lo so I cucini saranno i cugini Vai dai cugini cerca di capire cosa poi aspetta ma no ma forse dobbiamo provare a cucinare quello che ha suggerito di fare Mamma pig sale maiale fresco sangue grano si va bene mi sa che devi ammazzarli luca devi ammazzare i cugini Dai va beh cugini Faccio io ok Si luca tu procurati il resto però è che ne so io ho un fiore cosa serve sale l'avevo visto qua Perfetto abbiamo trovato del sale ma il sangue non ce l'abbiamo luca mi sa che com'è come la questione di george Non abbiamo tutte le risposte quando devo continuare a esplorare luca secondo me lo troveremo da qualche altra parte non vorrei metterci il mio E va bene il caso insomma ti tagli un attimo al dito Perché ce l'ha sempre con me perché c'era sempre come un armadio non c'è da nessuna parte dunque rascondersi Allora faccio una bella cosa io dare un'occhiatina alla stanza di george Dio servono dei numeri luca hai visto qualche numero tu in giro Qualcosa ci sono quattro potrebbe essere quella combinazione se mi togli per parlare calcagna Io ci provo Come possibile ormai c'è caso ok Il meccanismo dell'altare dinosauro e un piccolo a capisco c'è un Allora quanto pare il dinosauro te lo becchi te perché non so cosa farmi onestamente magari Un gadget ma no ma qua ci andrà il pulsante per per eseguire il sacrificio non lo so premilo premilo che la sento camminare Muoviti muoviti d'accordo alla 3 2 1 Oddio cosa è comparso la testa di george Prendila tu prendila io non lo so ok andiamo andiamo ok adesso Adesso luca però mi è venuto in mente una cosa cosa fai vieni un attimo qua mi è venuto in mente un'altra cosa qui nella stanza di george avevamo trovato anche del sangue prima ti ricordi Sì eccolo qua Ma non la salsiccia al sangue ci sono per cucinare nella stanza abbiamo Sì forse non lo so non mi ricordo fai la memoria breve e qua c'è la ricetta Le maiale grano già Mi sono distratto a leggere ci manca ancora il grano turco luca tu ce l'hai sì ok allora andiamo sfrighiamoci sempre Sempre a fare il codardo così tanto non ci prenderà mai Guarda che lenta che un po' attento 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 Ok magari oggi all'angolo perfetto allora a questo punto io lo metterei pure qui nel calderone di mamma piga allora un po di sangue sale Già messi ok grano e il maiale manca qualche ingrediente È successo O mio dio che è successo un nostro porto segreto che cosa è Del becco mi viene fame Non è male Ma lei se l'hai scoperto assaggiando la luca che schifo Usato va bene non importa andiamo a dare una degna sepoltura mamma pig non guardare queste cose L'uomo che da parte in pressione non darmi più vai show manca papà pig ma non lo so dove trovarlo bisogna scoprire dove diamo lo sta penso una stanza verde è l'unica C'è l'ho dato il soprannomi Uuuu Oh no Attento luca a quanto pare già hanno fatto un bel banchetto qua c'è anche la televisione accesa danno i cartoni animati luca viene a vederli insieme a me Forse forse non è il caso di guardare non guardare i cartoni animati luca lascia stare non non ti conviene quindi dicevamo Che che non è il caso fossi guardarci troppo attorno che secondo me se attiriamo la sua attenzione Giulio qua dentro ma la Cosa hai trovato qualcosa lo scarico luca non È un water molto grossi ma aspetta com'è che torniamo indietro poi luca e fai un bel tuffetto tu va no che l'hai scoperto tu e ti fai un bel tuffetto tu e scusami come Dai va bene vado io stato perché mi piace sguazzare lo schifo dai C'è il trampolino ma non è troppo facile Dai ma io mi devo buttare Ok ci sono oh no luca esattamente come che cosa mi hai buttato la terra stavo testando lo scarico vieni qua che ti mostrano una cosa di bello Guarda che bello questo per l'età beh penso riesce a scavare luca madonna è duro come 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 l'età scavalo Gatti la mossa Dai scava 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 vediamo se riusciamo a trovare qualcosa C'è qualcosa ma no ma che schifo ma lo scarico e basta Guarda no non è lo scarico e basta luca penso di aver trovato qualcosa di molto gustoso Assaggia assaggia ti piacciono no che cosa mi sa che papà pig come papà pig degli hot dog così sono Papa io penso non lo so fossero i gemellini di peppa e abbiamo tutti e tre abbiamo tutti e tre e allora possiamo andarli Andare a far riposare in pace lo calai salta sbrigati Guarda qua stasera grigliata ma come stasera non ho proprio voglia di grigliata dopo tutta questa storia ok Quella cosa divertente che ho trovato un sacco di all'età me libero insomma che posso usare Contro di te se lo usassi contro di peppa peppa qua c'è spigio ok ma dove era il cimitero Non lo so era la stanza di peppa era questa rosa forse quella centrale Attento le trappole sui muri Entriamo Perfetto allora vabbè luca allora a questo punto io direi di mettere la padella qui per onorare mamma pig Poi io metto gli hot dog E a te Oh no Guarda corri Scappa Scappa luca Ah Eh spi l'abbiamo fatto arrabbiare Luca sono tornato dove sei? Abbiamo fatto arrabbiare è molto peggio di prima te lo dico io Eh l'ho visto che è molto peggio di prima ma dove dobbiamo andare Oh trattino apertura Faccio un'apertura questa è la stanza E' la stanza dei glitch guarda che roba Ok luca ci vediamo dall'altra parte Io vado Devi aspettarmi non vale Oddio luca ci sei? Oh Guarda che roba Ma la casa di Peppa Pig Ma questi sono i suoi cucini E' tutto finito luca Finalmente possiamo andare a rubare in santa pace non pensi? Dai su su vediamo se è la gioielleria in casa dai Eh dai datti la mossa Dobbiamo rubare tutto quello che c'hai in casa Ma che schifo però eh Che schifo mi hai tirato guarda Che cosa c'è o no? A quanto pare la maledizione di Piggy non è finita Corri Eh sì corre Vabbè non è che ci stai seguendo qualcuno eh Sì che siamo liberi Certo che sei un po' psicopatico Negli horror stanno tutti lì Ah sì prendiamoci un caffè in questa casa infestata dai fantasmi Sì quindi meglio che corri Se no ti prendo io Ah volevi ah no Ah ha Ah Ah ha Grazie